L'Italia affronta l'Irlanda nell'ultima partita del girone di qualificazione agli europei Under 21. Prima occasione per gli ospiti al diciassettesimo. Kenny stacca su calcio d'angolo, De Plansch perde palla, Bertola salva sulla linea la ribattuta dell'attaccante irlandese. Bertola protagonista anche a metà primo tempo. Altro angolo, questa volta il difensore azzurro salva sul destro di Adeco. Gli azzurrini di inunziata si scuotono e sulla ripartenza affondano. Gnonto, lato corto dell'area di rigore, mette al centro Casadei, controlla con il destro e infila l'1-0 con il sinistro. Italia in vantaggio al minuto 23, secondo gol in queste qualificazioni per Casadei. La squadra dinunziata ora ha fiducia. Due minuti più tardi Prati verticalizza la palla, finisce a Gnonto dopo il velo di esposito. Il capitano può puntare l'area di rigore, affronta Degboiega, arriva al limite e lascia partire il destro. Miracolo di Brux che devia sulla traversa. Mezz'ora di gioco, punizione defilata per l'Italia, Baldanzi col mancino, calcia forte, Brux immobile, la palla sfiora il palo alla sua destra. Baldanzi protagonista ancora a 10 dall'intervallo, salta due avversari e conquista calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Gnonto, ma il capitano calcia altissimo. La prima occasione del secondo tempo è per l'Italia. Al quarto d'ora, Gnonto serve Endur che se la sposta sul destro, uno sguardo alla porta, ma calcia alto sopra la traversa. Cinque minuti più tardi l'Irlanda attacca. O'Brien da rimessa laterale trova Emaku che si difende col fisico. Si gira e prova il traversone e la palla passa a Moren. Con il sinistro firma il pareggio. Rientrano in partita gli ospiti con il loro numero 10. L'Italia torna ad affacciarsi in avanti a 5 dal termine. Coleoscio dalla corsia sinistra rientra sul destro. Ade Gboyega è scivolata a lontano, ma serve Ghilardi che scarica un sinistro potentissimo. Brooks salva il risultato mandando il calcio d'angolo. In pieno recupero, brivido per gli azzurrini. Emaku controlla sulla tre quarti e salta due avversari. Entra in area, lascia partire il destro in diagonale. Fondamentale intervento di De Plansch a Trieste. Finisce 1-1 l'Italia, prima nel girone. Si assicura la qualificazione diretta ai prossimi europei in Slovacchia. Fondamentale intervento di De Plansch a Trieste.